Ciao ragazzi, siamo i Magi su Clotus. Allora, oggi ho una news super veloce per voi. Hanno annunciato, Magic ha annunciato una nuova collaborazione con uno dei brand più importanti al mondo, più forti al mondo, nel mondo nerd e più vasti. Quindi questa collaborazione sicuramente porterà dei vantaggi a Magic e soprattutto porterà delle carte probabilmente molto spicy, che siano di stampe o carte nuove non si sa ancora, però sono sicuramente super positivo per questa collaborazione. E la Marvel, quindi tutti conoscete Marvel, sono veramente super eccitato. Andiamo a vedere subito il trailer e poi vi lascio così, vi ho dato la notizia e boom. Guardate. Cazzo da una carta. Liliana. Pazzesco ragazzi, pazzesco. Tanti anni, tanti anni che stavano pensando a questa collaborazione e adesso finalmente arriverà. Non si sa ancora quando, boh, non lo sapremo. Lo spoilereranno probabilmente a breve. Un saluto e un abbraccio, ciao ragazzi. Pazzesco ragazzi.